Il teatro Pietro Aretino torna ad ospitare la grande stagione dell'opera lirica in diretta dai più prestigiosi palcoscenici internazionali, come ad esempio il Metropolitan Opera di New York, la Scala di Milano e l'Opera di Parigi, solo per citarne alcuni. L'iniziativa promossa dalla rinnovata collaborazione tra comune di Arezzo e officine della cultura permetterà anche al pubblico Aretino di ascoltare il patrimonio lirico internazionale grazie alla grande stagione live 2013-2014 di microcinema, attiva dal 2006 nella programmazione in digitale. Il live comincerà il 12 novembre con la Tosca, poi proseguirà il 7 dicembre, 14 febbraio fino al 13 di maggio. Sono nove dirette a un prezzo molto particolare perché questa era 12 euro l'entrata, più 3 euro per un aperitivo chiunque voglia fare questo aperitivo cena e ci sarà anche un abbonamento ai nove spettacoli che costerà 90 euro. Tra gli appuntamenti clou quello del 7 dicembre con la diretta della prima del Teatro della Scala con la traviata di Giuseppe Verdi. Emotivamente come italiani nell'anno verdiano essere in diretta alla Scala con la traviata penso che sia un momento indimenticabile. Io prego i genitori di portarci anche i bambini piccoli perché la musica, come tutte le cose belle, si devono respirare fin da piccolo. La traviata è un'opera che non può non coinvolgere tutti, è un'opera romantica per eccellenza, è l'opera dell'amore che supera tutte le regole morali e tutte le consuetudini. Si può prenotare, la prenotazione può essere fatta alle officine della cultura, alla rete teatrale retina e comunque nel circuito box office online possiamo anche prenotare tranquillamente il posto. Maldanera, Proto! Proto! Proto!